Ho sempre nutrito un certo entusiasmo nei confronti delle nuove tecnologie. Fin da piccolo, fin dalla più tenere età, sono sempre stato affascinato dall'informatica, dall'elettronica, dal futuro, dalla robotica. Questa roba qua sarà perché sono cresciuto negli anni 80, molto probabile, come è altrettanto probabile che figure storiche della fantasia e del cinema come Robocop e Terminator o Automan mi abbiano colpito dentro per non parlare di supercar. Ma proprio a proposito di supercar arriviamo all'argomento. Ho viaggiato in elettrico, sono andato come un esploratore verso il più profondo sud del nostro paese. Un'esperienza allucinante. Lo so, magari questo è un video un po' fuori tema rispetto a quelli che sono i nostri consueti argomenti, ma come ben vedete si trova nella playlist Attualità. E per una volta protagonista dell'attualità sono io con la mia esperienza fantoziana. Come ho già detto all'inizio video, io sono un fanatico, o almeno sono un curioso, sono uno sempre aperto alle novità tecnologiche. E tra queste novità una che mi ha appassionato particolarmente è stata l'auto elettrica. Non che io sia chissà che amante dell'auto a batterie, però avendone provata più di una posso dire che per quello che riguarda la comodità di guida, per quello che riguarda il comfort, per quello che riguarda anche la fruibilità nei centri delle grandi città, beh, è qualcosa di fantastico. Soprattutto mi piace dell'auto elettrica la ripresa, cioè acceleri schizza. Recentemente ho preso un SUV elettrico, ok? Uso la parola elettrico anche con un certo tono di dileggio. Ho preso questo SUV elettrico e ho deciso, in occasione di queste festività, che erano poca roba, 4-5 giorni, di inoltrarmi verso il profondo sud del nostro paese. La destinazione poco vi interessa? Vi interessa che ho fatto la Salerno Reggio Calabria. Ci siamo? È stato qualcosa ai confini della realtà. Roba che Ulisse, a differenza mia, ha fatto. Andata a ritorno col Concorde, tranquillamente servito da tre hostess romene pronte a spompinarlo. Ma voi immaginatevi, tu parti con una macchina elettrica carico al 100%. La mia macchina, contrariamente a quello che dice la casa, che dice che ha 400 km l'autovia, al 100% dava addirittura 480 km di economia che, se mettevi in modalità eco, diventavano 520. Siccome io dovevo fare circa 600 km, ho detto, dai cazzo, cioè, in pieno è una carichetta poco prima da arrivare. Mal me ne colse. Questo viaggio mi ha insegnato una cosa, perché poi mi sono confrontato nelle svariate soste, che ho dovuto fare per ricaricare con altri ingenui coglionazzi come me. Diciamo, questo viaggio ha fatto capire due cose. Mi ha fatto toccare con mano il problema dell'elettrico extraurbano. Primo, tutte le macchie elettriche sono delle bugiarde patentate. La macchina elettrica ti può dire che ha un'autonomia di quello che cazzo vuoi tu, ma nella realtà dei fatti, dico nella realtà dei fatti, non è mai così. Sono andato a parametrare, a fare un confronto, tra i chilometri che percorrevo in tempo reale e i chilometri che la batteria stornava. Perché la batteria ti dice 100%, 500 chilometri. E io c'avevo da fare poco più di 600, d'accordo? Già dicevo, passa un chilometro qua, passa un chilometro qua. Questa dovrebbe essere la logica. Anche perché ho viaggiato di giorno senza usare tergicristalle, con i fari di posizione, senza accendere aria condizionata né niente. Cioè, proprio non usavo niente, neanche la radio ho acceso, ok? Vabbè, neanche il cellulare in macchia ho ricaricato, d'accordo? Parto Roma, raccordo anulare, traffico ben o male regolare. Non ho trovato questo gran traffico in generale, tranne nella Roma-Napoli. Ragazzi, faccio i primi 70 chilometri, ok? Dei 500 chilometri che la macchina mi diceva, preciso, senza mai accelerare, mai superando i 110, anzi, devo dire la verità, che in autostrada mettevo il cruise control, così stava fisso, no? E recupera da solo energia. Allora, ho fatto 70 chilometri, secondo la batteria di merda, ne avevo fatti 160. E là, diciamo, un po' di cacchetta ne viene. Incomincio a fare la Roma-Napoli, che tengo a precisare che pure levi mente in discesa. Incomincio a fare la Roma-Napoli col cruise control e c'erano quei momenti in cui non c'era bisogno di accelerare, il cruise control recuperava energia. E io risalivo vistosamente di chilometraggio e roba del genere. Ma i chilometri che ti recupera il cruise control sono una cazzata, perché poi una volta che vai a fare una sola accelerata, tutti i chilometri che nominalmente lui ti fa pensare di aver recuperato, fanno così, li perdi tutti. A 40 minuti da Napoli, la condizione era disperata. Mi trovavo con la batteria, che stava già al 46-44%, e avevo circa 100 chilometri di autonomia. Scendeva come se non ci fosse un domani. Becco la prima pompa, perché oramai in quasi tutte le stazioni di rifornimento d'Italia c'è la possibilità di attaccarsi alla colonnina. Becco la prima colonnina, mi fermo, fast. Ora io di solito in città non faccio mai il fast, faccio quella normale, no, perché non è che ho bisogno di ricaricare così velocemente, la lascio la notte, roba del genere. Il fast, ovunque, dove andate a leggere, quello lì con 5 bug che metti là dentro, ti dice che dovrebbe portarti la macchia all'80% in 20 minuti. Cazzate! 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 Punto! La mia macchina ha 70 kilowatt di batteria, è una delle batterie più grosse che ci sono. ho ricaricato 72 minuti per portarmi all'80%. Arrivo al 100% in due ore. Prendo, riparto. Tengo a precisare che non viaggiavo da solo, viaggiavo con la famiglia, perciò immaginare pure lo stress, no? Anche perché il genio che ha avuto l'idea di partire con l'avente, cosa stavo io? Potevamo benissimo noleggiare un'auto a benzino, a diesel? No, io ho detto no, devo fare l'esperienza elettrica perché sono un coglione. Napoli, imbocchi il bivio per Salerno. Guardate, a Salerno non ci sono arrivato. Poco prima di Salerno ho dovuto fare, all'altezza di un'Ikea a Baronissi, che non sapevo manco che esisteva un paese che si chiama Baronissi, ho dovuto fare, sotto la pioggia abbattente, un altro pieno. Quanto ci sono stato? Due ore e un quarto. Non lo so, qua pioggia gli è via male. Da lì in poi sono continuato a scendere sulla Salerno-Reggio Calabria, ma c'era il problema. Non so se avete notato, non vi ho detto che ho fatto un altro pieno in una stazione di risifornimento. No, l'ho fatto uscendo dalla Salerno-Reggio Calabria e a Baronissi, all'altezza dell'Ikea, che si affaccia sulla Salerno-Reggio Calabria. Perché voi non lo sapete? Da dopo Napoli non esiste più un cazzo di rifornimento per strada. Cioè, sull'autostrada lo devi fare fuori e non si sa bene dove. Continuo, 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 e in pratica arrivo verso Sala Consilina e là dico Cazzo, sto di nuovo così. Stavo alla terza ricarica. Esco, vado in un posto desolato, in piena campagna, de notte. Ora, considerate che io non vi ho detto una cosa. Sono partito la mattina alle 10. La quarta ricarica la sto facendo alle 20 e ancora sono in campania. Morale della favola dopo quella ricarica ne ho dovuto fare altre due in due paeselli sperduti tra la Basilicata e la Calabria vedendo dei luoghi meravigliosi di notte che perciò non mi sono potuto neanche godere che sono stati ancora più lunghi perché in questi luoghi non c'era il fast ma c'era quello normale. Sapete a che ora sono arrivato? Alle due di notte Alle due di notte Il ritorno, memore dell'esperienza che ci ho io circa 20 ore ho preso ci ho partito sempre al 100% ma sarà stato il sole sarà stato non so cosa ci ho messo 12 ore quello sì però ho fatto una ricarica de meno forse perché non pioveva non lo so perché dicono quando piove facendo il tergicristalle la macchina consuma i più ora l'elettrico in tutto questo nella mia esperienza è ovvio che io in questo momento lo dovrei odiare ma non lo odio perché in città continuo a dire che è la cosa migliore del mondo anche solo il risparmio economico per quello che riguarda il rifornimento è qualcosa di straordinario ma odio due cose primo ho compreso adesso proprio sulla mia pelle ciò che già sospettavo che in Italia la macchina elettrica non potrà mai avere successo come da quei peones degli inglesi dei francesi e dei tedeschi non parliamo poi dei paesi bassi perché? perché noi siamo un paese che ha la sportività dentro le macchine abbiamo inventate noi un altro po' e non riusciamo a tollerare due ore e mezzo o 40 minuti o quello che volete di ricarica fast charge ed è veloce perciò devono trovare primo una soluzione per ricaricare in pochi minuti come si fa con la benzina la cazzo della batteria secondo questo paese è sempre a due velocità se non addirittura a tre non è tollerabile che io fino a Napoli c'ho il cazzo della torretta ovunque da dopo Napoli non c'ho più niente io non so se è negli X o chi si occupa di energia o questo governo si ricorda che gran parte di questo paese è fondamentalmente meridionale o comunque anche chi sta al nord da vent'anni c'ha un parente al sud perciò volente o non volente nei giorni di festa è molto probabile che questo centro sud come viene sempre si riempia non è tollerabile che non c'ho una serie di colonnine sull'autostrada oltre a ciò le case automobilistiche devono iniziare a non essere delle bugiarde croniche io c'ho una macchina che mi dice che la casa mi dice che c'ha 400 chilometri di autonomia netta la macchina faccio il pieno in eco mi dice 520 in realtà se sono 260 270 chilometri di autonomia è grasso che cola per il momento l'elettrico a livello nazionale si può solo che bocciare se lo posso godere solo al nord quei peones che vivono tra lago del Garda e lago di cazzo che ti si frega che si fanno le scampagnate perché so stracolmi di torrette e allora le parlano bene ma per noi italiani normali che viviamo tra il regno delle due Sicili e il mondo l'elettrico va rivisto completamente il centro sud non si può lasciare così scoperto le macchine devono avere delle batterie serie e soprattutto i ricarichi devono essere veloci grazie grazie Grazie.